Pescara compie 83 anni, c'è un regalo che arriva dal calciomercato? 83 anni come Marinelli Pescara compie, quindi i regali devono essere fatti dal punto di vista del mercato con cognizione di causa. Stiamo lavorando per capire quale sarà l'obiettivo sensibile su cui puntare e portarlo a Pescara. C'è un arrivo dall'Atalanta? Ma dall'Atalanta sicuramente arriverà Melegoni, tornerà Melegoni e poi arriverà un ragazzo giovane di cui parla non gravele che è D'Abi. Per quanto riguarda l'attacco, è chiaro che molto si parla dell'arrivo di almeno un centravanti, perché ora con Galano, con Cisco, sia in trattativa con Tutino, i gol degli esterni possono arrivare, però poi serve il centravanti. Tanti nomi, ma? Ma appunto, quello è l'obiettivo sensibile, la punta, perché per noi è fondamentale lavorare lì davanti, visto che abbiamo perso Mancuso e quindi è giusto rinforzare quel reparto lì. Non ci dimentichiamo che abbiamo un ragazzo di nostra proprietà che è un 96 che risponde al nome di Bunino, che quest'anno da gennaio a giugno ha fatto dieci gol in Lega Pro, quindi non capisco per quale motivo, molte volte si parla di altri giocatori che arrivano dalla Lega Pro che hanno fatto gli stessi gol in tutto l'anno, noi ce ne abbiamo uno di proprietà che ne ha fatti dieci fondamentali per la Juventus e noi stiamo pensando sempre agli altri. Bunino intanto è il primo attaccante del Pescara che ritorna e quindi ce l'abbiamo, una punta centrale. Abbiamo il nostro ragazzo del settore giovanile che ha fatto benissimo la primavera che è Borrelli e vogliamo cercare un attaccante che abbia delle caratteristiche per il gioco che vuole fare il mister che possa essere non necessariamente un nome grosso ma anche un giovane di buonissime prospettive. Tuminello? Tuminello è uno di questi, forse è in cima alla lista, è un giocatore che ci piaceva portare a Pescara anche a gennaio, non ci siamo riusciti, magari c'è la possibilità di farlo adesso. Iemmello, Ceravolo, Ciofani sono giocatori che se dovessero entrare nell'orbita del Pescara accadrà nella parte tarda del mercato, forse se dovessero scendere le loro pretese? Ma io credo che poi questi sono giocatori che hanno comunque dimostrato nella loro carriera di valere quello che guadagnano, secondo me sono giocatori che sono fuori portata per il Pescara perché ribadisco, poi nelle rose ci sono sempre degli equilibri da rispettare e siccome a mio avviso non c'è un giocatore in Serie B che sposta gli equilibri, che da solo può fare la differenza, è giusto che sia la squadra a vincere e quindi è giusto che tutti quanti siano allineati. Il Pescara è una società che deve fare questo tipo di lavoro. A centrocampo Palmiero e Bussellato ci siamo, siete vicini alla loro firma e poi Brugman, qual è il punto della situazione, è un po' la domanda ricorrente. Ma non siamo vicini a nessuno perché a oggi il reparto del centrocampo del Pescara è forte se non più forte dell'anno passato perché con Brugman, Canutè, Memushai, Bruno, Crecco, se è il ritorno di Melegoni e l'arrivo anche di questo ragazzo siamo già tanti e sono tutti giocatori bravi. Poi vedremo, Brugman, se arriverà una richiesta che gli consentirà di fare il salto di qualità, bene, altrimenti ce lo teniamo stretto perché è il nostro capitano ed è un giocatore per noi fondamentale. Però Bussellato e Palmiero restano degli obiettivi? Restano degli obiettivi se si sfoltirà il reparto perché altrimenti non è che portiamo dieci giocatori per farne giocare tre. L'ultima del grosso e perrotta sono in uscita? No, del grosso non è in uscita nel modo più assoluto, è superrotta, continuo a sentire sempre fatta, vicino, va via, ma fintanto che non arriverà una proposta io non so di che cosa parlare di superrotta.